Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica per due mandati tra il 2006 e il 2015 e primo della storia d'Italia ad essere rieletto, è morto venerdì 22 settembre, a 98 anni. Napolitano era in condizioni di salute precarie da molto tempo per via dell'età, e si era aggravato negli ultimi giorni. Al momento della morte si trovava nella clinica privata Salvatore Mundi a Roma. Ha interpretato con fedeltà alla Costituzione e acuta intelligenza il ruolo di garante dei valori della nostra comunità, ha detto Sergio Mattarella. La premier Giorgia Meloni ha espresso cordoglio a nome di tutto il governo. Il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano ha disposto che per il Presidente Emerito della Repubblica si celebrino i funerali di Stato, la decisione consente di evitare la convocazione di un Consiglio dei Ministri straordinario. Il testo del comunicato dispone anche il lutto nazionale, a seguito del decesso del Presidente Emerito della Repubblica Senatore di Diritto e a vita Giorgio Napolitano si dispone, dal 22 settembre 2023 fino al giorno della celebrazione delle eseque di Stato, l'esposizione a mezzasta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell'intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. Il giorno delle celebrazioni delle eseque di Stato sarà dichiarato lutto nazionale, si legge nel provvedimento. I funerali del Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano si svolgeranno martedì prossimo, 26 settembre, in piazza Montecitorio con una cerimonia laica. La Camera Ardente per l'omaggio all'ex Presidente della Repubblica si aprirà, secondo quanto si apprende, domani alle 10 a Palazzo Madama e sarà aperta fino alle 19. Il giorno dopo, lunedì 25, sarà nuovamente possibile rendere l'ultimo saluto al Presidente Emerito dalle 10 alle 16. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.